E' illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per motivi di studio e tirocinio presentata dal ricorrente. Detto di niego non rega l'indicazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, non essendo talfine idonee per la loro genericità e non assoluta conferenza con la fattispecie le espressioni ivi presenti.